E' un danno penso che, meno male che insomma quello che sento dire, i lavoratori, gli operai sono chi in qua, chi in là, insomma la LEM, so che lavorano tutti in una fabbrica, quegli altri l'hanno preso un po' qua, un po' là, un po' Prada, un po' comunque è un danno. La Valentino e la LEM, le due aziende andate a fuoco nella zona industriale di Levane, scelte come simbolo di questo primo omaggio, un primo omaggio ancora particolare, la pandemia è ancora in corso e i sindacati confederali sono oggi qui per la loro manifestazione e per portare sul tavolo i temi più importanti. Ora è il momento che la politica faccia appunto il suo lavoro, si riprenda in mano il territorio, perché se no c'è qualcun altro che riprende il territorio, a prescindere da come è andata qua, insomma abbiamo un problema serio nel nostro territorio che si crea criminalità organizzata, ecco questa la combattiamo con la massima attenzione ma anche col massimo presidio istituzionale, sociale e soprattutto politico, perché la politica deve prendere quei provvedimenti che noi tra l'altro da tempo chiediamo, ovvero per quanto riguarda in particolar modo anche la questione degli appalti, che qualsiasi smagliatura che si crea c'è chi è pronto per insediarsi dentro. E poi in tutta la Toscana, ma in queste zone, dalla Valdichiana, va a dare questa infiltrazione sistematica che c'è della criminalità organizzata in tutti i settori produttivi, questa è la nostra preoccupazione e il nostro obiettivo da combattere. E i sindacati contestano anche fortemente l'ordinanza di Gianni che ha permesso, seppur per mezza giornata, l'apertura dei supermercati. Sì, sinceramente non è certo il miglior augurio per quanto riguarda il primo maggio, quindi ci è sembrato davvero quasi una sfida, una sfida in un giorno in cui non c'era bisogno di sfide, c'era bisogno di lavorare insieme, di parlare insieme, di costruire questo lavoro che cura l'Italia, perché se in questo momento non inizieremo a parlare di nuovi modi di fare lavoro, di una nuova organizzazione del lavoro, di un lavoro che deve andare incontro al futuro e cambiare insieme ai lavoratori, quindi insieme alla formazione dei lavoratori, assolutamente faremo un flop, anche rispetto alle risorse che ci arriveranno dall'Europa e che abbiamo definito. Sono debiti che facciamo per i nostri figli, perché non li pagheremo noi, li pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. Dobbiamo almeno utilizzarli al meglio per tutti i lavori che possano lavorare.